Capitolo 17 Qualche giorno dopo aver condiviso con me le cannucce al cinema, Jeremiah annunciò «Oggi insegnerò a Belli a usare la leva del cambio!» «Davvero?» chiesi io con aria entusiasta. Era una bella giornata, la prima della settimana, un giorno perfetto per guidare. Era il giorno libero di Jeremiah e mi sembrava impossibile che lui volesse trascorrerlo a insegnarmi a guidare. Era da un anno che lo supplicavo di farlo. Stephen ci aveva provato, ma si era arreso alla terza lezione. Mio fratello scosse la testa e beve un sorso di aranciata dalla bottiglia sul tavolo. «Ha intenzione di morire, Jeremiah? Perché Belli farà fuori entrambi eppure il cambio!» «Non farlo, te lo dico da amico!» «Gracci, Stephen!» gridai, dandogli un calcio sotto al tavolo. «Questo solo perché tu sei un insegnante terribile!» Stephen si era rifiutato di tornare in auto con me, dopo che per sbaglio io gli avevo fatto una maccatura minuscola sul parafango durante la lezione di parcheggio. «Io ho fiducia nelle mie doti di insegnante!» ribatteggere Maya. «Quando avrò finito di istruirla, sarà migliore di te!» Stephen sbuffò. «Buona fortuna!» poi si accigliò. «Quanto tempo starete fuori? Credevo che saremmo andati a esercitarci a golf!» «Potresti venire con noi!» gli proposi. Stephen mignorò e disse a Jeremiah. «Devi allenarti nello swing, caro mio!» Gettai un'occhiata a Jeremiah, che mi guardò ed esitò. «Tornerò per pranzo, possiamo andarci dopo!» gli rispose. Stephen alzò gli occhi al cielo. «D'accordo!» Mi accorsi che era infastidito e anche un po' ferito. E quello mi fece sentire soddisfatta e dispiaciuta allo stesso tempo. Mio fratello non era abituato a essere messo da parte come me. Andammo a fare pratica sulla strada che portava all'altro lato della spiaggia. Era tranquilla, non c'era nessuno a parte noi. Ascoltammo il suo vecchissimo CD di Nevermind. «È figo quando una ragazza sa usare bene il cambio», spiegò Jeremiah sovrastando Kurt Cobain. «Significa che è sicura di sé e che sa cosa sta facendo!» Misi la prima e tolsi con delicatezza il piede dalla frizione. «Io credevo che ai ragazzi piacessero le ragazze incapaci!» «Anche quelle! Io, però, preferisco quelle sveglie e sicure di sé!» «Che cavolata! A te piaceva Taylor e lei non è così!» Lui sospirò e mise un braccio fuori dal finestrino. «Dobbiamo proprio tirare di nuovo in ballo l'argomento!» «Sto solo dicendo che lei non era poi così sveglia e sicura di sé!» «Forse no, ma di sicuro sapeva cosa stava facendo!» Rispose lui, scoppiando a ridere. Gli dia di una gomitata, forte. «Quanto sei volgare!» «Dissi. E sei anche bugiardo! Io so per certo che vi siete solo baciati!» Jeremiah smise di ridere. «Va bene, è vero! Però baciava benissimo! Sapeva di Smarties!» Taylor adorava gli Smarties. Se li infilava in bocca di continuo come fossero vitamine, come se le facessero bene. Mi domandai se Jeremiah mi reputasse all'altezza di Taylor, se pensasse che anch'io baciavo benissimo. Gli dia di una sbirciatina e lui dovette capire a cosa stavo pensando, perché rise e disse «Tu però sei stata la migliore, Belli!» Gli tirai un pugno sul braccio, ma neppure allora smise di ridere. Anzi, rise ancora più forte. «Non togliere il piede dalla frizione!» mi ordinò con le lacrime agli occhi. Mi stupì che se ne ricordasse. Voglio dire, per me era stato un bacio memorabile, perché era stato il primo e lo avevo ricevuto da Jeremiah. Il fatto che se ne ricordasse mi fece tollerare le sue risate. «Tu sei stato la prima persona che ho baciato!» gli confessai. Avrei potuto raccontargli di tutto in quel momento. Ebbi l'impressione che il nostro rapporto fosse tornato quello di un tempo, quello che avevamo da piccoli prima che le cose si complicassero. Mi sentivo a mio agio, in confidenza, normale. Lui distolse lo sguardo, imbarazzato. «Sì, lo so!» «Come fai a saperlo?» Lo avevo baciato talmente male che lo aveva sospettato. Che umiliazione! «Eh, me l'ha detto Taylor tempo dopo!» «Che cosa? Non posso credere che lo abbia fatto! Che giuda!» Per poco non fermai l'auto. In realtà ci credevo e come, ma mi sembrava comunque un tradimento. «Che vuoi che sia?» mi rispose, ma le sue guance erano diventate rosse. «Voglio dire, la prima volta in cui baciai una ragazza fu per gioco. Lei continuava a ripetermi che lo stavo facendo in maniera sbagliata. «Chi? A chi hai dato il tuo primo bacio?» «Non la conosci, non ha importanza. Dai!» insistetti facendo le moine. «Dimmelo!» A quel punto l'auto si spense e Jeremiah disse «Ora premi la frizione e metti in folle. Solo se confessi di chi si tratta!» «D'accordo, Christy Tarndach!» rispose lui chinando la testa. «Hai baciato Christy?» scoppiai a ridere. Christy Tarndach la conoscevo e come. Un tempo viveva così in speech tutto l'anno. «Lei aveva una grossa cotta per me!» rosseguigere Maya stringendosi nelle spalle. «Lo hai raccontato a Stephen e Conrad!» «Che cavolo, no! Non sanno che ho baciato la Tarndach!» rispose. «E non devi raccontarglielo neppure tu! Giura!» ci stringemmo i mignoli. «Christy Tarndach!» baciava davvero bene. È stata lei a insegnarmi tutto quello che so. Mi domando che fine abbia fatto. Io mi domandai se anche la Tarndach sapesse baciare meglio di me. Di sicuro, visto che era stata lei a insegnare a Jeremiah. L'auto si spense di nuovo. «Sto guidando da schifo! Ci rinuncio!» «Non bisogna mai mollare!» mi ordinò Jeremiah. «Forza!» Sospirai e rimisi in moto la macchina. Due ore dopo ci riuscii, più o meno. Il motore continuava a spegnersi, ma avevo fatto progressi. Stavo guidando!» Jeremiah sostenne che ero nata per guidare. «Quando arrivammo a casa, erano le quattro passate e Steven se n'era andato. Immaginai che si fosse stancato di aspettare e fosse andato a giocare a golf da solo. Mia madre e Susanna stavano guardando un vecchio film in camera di Susanna. Erano al buio, con le tende tirate. Rimasi fuori dalla loro porta per un minuto ad ascoltarle ridere. Invidiavo il loro rapporto. Erano esattamente come due copiloti, in perfetta armonia. Io non avevo quel genere di amicizia, l'amicizia eterna che durerà per tutta la vita qualsiasi cosa accada. Entrai nella stanza e Susanna esclamò «Belli! Vieni a vedere il film con noi!» Io mi infilai a letto tra loro due. Essere sdraiata nella semioscurità mi fece sentire in un luogo accogliente, una specie di caverna. «Geremia mi sta insegnando a guidare!» «Quel ragazzo è un tesoro!» disse Susanna con un lieve sorriso. «Ed è anche coraggioso!» aggiunse mia madre pizzicandomi il naso. Mi raggomitolai sotto alla trapunta. In effetti, Geremia era davvero un tesoro. Era stato gentile a portarmi a guidare quando nessun altro era disposto a farlo. Il fatto che avessi ammaccato la macchina un paio di volte non significava che in futuro non sarei diventata un'eccellente guidatrice come chiunque altro. Grazie a lui ora sapevo guidare. Sarei stata una ragazza sicura di sé, di quelle che sanno cosa fanno. Una volta presa la patente avrei guidato fino a casa di Susanna e avrei portato Geremia a fare un giro per ringraziare».